Nel 2009, un miliardo di persone in 4.000 città di 88 paesi del mondo hanno spento la luce per 60 minuti per chiedere ai leader del pianeta un impegno concreto per la lotta al riscaldamento globale. A Copenhagen non è stato raggiunto un risultato soddisfacente e il pianeta non può più attendere. Il 27 marzo, dalle 20.30 alle 21.30, sarà l'ora della Terra. Spegni la luce per continuare ad accendere il messaggio di speranza. Registrati su www.wwf.it Grazie per la visione!